Salve, Avvocato Alessandro Guimieri Galilei del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione. Tra le mie materie di interesse prevalente vi è anche il diritto di famiglia e la mia passione nasce proprio dalla mia esperienza personale. Come tanti figli di genitori separati, infatti, ho avuto modo di vivere il dramma dell'allontanamento, del disfacimento del nucleo familiare e soprattutto ho avuto modo di vedere che questo, nell'ambito dello sviluppo e della genesi della coppia, molto spesso produce effetti disastrosi quando a ciò si aggiunga anche l'alienazione parentale, ovvero sia l'allontanamento ontologico nei confronti dell'altro genitore. Per questo ho deciso di dedicarmi allo studio di questa materia e allo studio delle relazioni in particolare e mi sono occupato di diritto di famiglia e di separazioni e divorzi. Naturalmente il mio focus è sempre stato non quello dell'alimentazione e della conflittualità, bensì del redimere i contrasti e quindi della riconciliazione. E ciò ho fatto anche in famiglia, facendo riavvicinare in qualche modo, seppur dopo 35 anni, i miei nell'occasione della nascita di un nipotino. Naturalmente dal punto di vista tecnico questa dinamica e questo processo presenta diverse problematicità perché si è ancora focalizzati molto sulle conflittualità, sull'astio, sulla mancanza di comunicazione e sull'odio. Molto spesso dal sentimento si passa al risentimento. Bisogna allora lavorare sulla attenuazione dell'egoismo, sullo sviluppo di qualità come l'assertività e soprattutto sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva, ovvero sia della capacità di stare in relazione con gli altri in maniera fluida e armoniosa. Naturalmente tutto questo è un processo che non può iniziare ed essere sospeso, è un cammino, un cammino ben preciso che ha bisogno di essere guidato, in cui si ha bisogno di essere condotti mano o nella mano, verso il percorso della redenzione e soprattutto dell'armonia e della pacificità. Quindi se vuoi restare informato su questi argomenti e vuoi vivere una vita di relazione migliore, vuoi evitare tutti quegli errori che io personalmente, anche molti genitori e molte coppie giovani fanno, resta in contatto con noi, iscriviti a questo canale YouTube e se vorrai lasciare la tua email ti manderemo anche tre videocorsi formativi assolutamente gratuiti e riservati solo a chi si iscrive alla lista e così che tu possa iniziare a capire come vivere una vita di relazione più soddisfacente e appagante. Naturalmente non posso far altro a questo punto che darti e farti i migliori auguri per una crescita personale sempre maggiore e come dico sempre a tutti, sii felice e buona famiglia anche a te.